Basta Manuela, con questa colazione triste! Dieci elaborate in gara, dieci azioni green che si sono contraddistinte, lanciando un messaggio positivo alla cittadinanza cavese e non solo. Difendere la città dall'inciviltà è senz'altro il primo passo per vivere meglio e sentirsi artefici di quei piccoli cambiamenti verso un futuro migliore. Il premio Resilienza Marzia Pisapia 2019, giunto alla sua seconda edizione ed organizzato dalla sezione cavese di Lega Ambiente, è stato consegnato questa mattina presso l'Aula Consiliare del Comune di Cava dei Tirreni ai giovanissimi Martina Cicco e Simone Pecoraro, che con questo scatto hanno ricevuto il maggior consenso del pubblico social per l'impegno profuso alla cura dell'ambiente. Il premio vuole ricordare la giovane cavese Marzia Pisapia che dopo una dura lotta contro la malattia è venuta a mancare... È una città che risponde, no? Quella di Cava dei Tirreni. È vero, come Lega Ambiente siamo contenti della risposta dei cittadini. Abbiamo invitato la cittadinanza, i giovani, a fare dei gesti concreti per la propria città e di mostrarceli con delle foto e dei video. Oggi abbiamo esposto i dieci finalisti e soprattutto annunciamo il vincitore del premio Resilienza Marzia Pisapia 2019, una seconda edizione per ricordare la nostra amica Marzia che è scomparsa l'anno scorso e che ha sempre lottato nonostante le difficoltà della vita. E quindi anche questi gesti che hanno fatto i ragazzi sono un segno di resistenza, di resilienza, di riscatto concreto. Li critichiamo tanto, ecco, i giovani, però alcuni di loro hanno risposto positivamente e siamo davvero contenti. L'esempio di Marzia Pisapia sarà portato avanti da tutto il gruppo di Lega Ambiente che ogni anno vuole premiare in sua memoria chi si sarà distinto sul territorio per le iniziative ambientali. Questo premio lo replichiamo ogni anno e premiamo ogni anno un gesto per la città. Lega Ambiente, come sapete, è attivissima sul territorio. Siamo un gruppo di ragazzi, principalmente volontari, ma soprattutto che sviluppiamo anche progetti importanti per il territorio. Penso al Green Hub di Cava dei Tirreni che insieme al Comune e altri partner stiamo sviluppando, Cartarte a Pellezzano, piuttosto che le nostre azioni di pulizia, di sensibilizzazione nelle scuole. Ci aspetta un grande 2020, invitiamo tutta la cittadinanza ad avvicinarsi a questa associazione, Lega Ambiente Cava. Scriveteci anche sui social perché siamo aperti per migliorare insieme la città. Scriveteci anche sui social.